E' bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TheGamerTube Come vedete siamo sulla beta di Black Ops 3 Un gioco fantastico, già ho fatto qualche partita Sono infatti livello 2 appena l'ho visto Perché come vedete ragazzi ero in vacanza L'ultimo video che avete visto era dello squad builder Quando l'ho messo dopo 4 giorni, 5 giorni di assenza Che ero a Caserta e il mio amico aveva prestito Ho fatto comunque i crediti di quella squadra E ho fatto quello squad builder 4 milioni e l'ho messo Dopo 3 giorni sono mancato ancora Perché sono partito, sono andato in un altro posto E' così in hotel Perciò non ho portato video né vlog C'è stato un casino anche col cellulare Non poteva fare video lunghissimi E ora ragazzi l'ho scaricato Per fortuna è ancora disponibile Ci ho fatto qualche partita dove la prima faceva veramente cagare Perché proprio, no perché ragazzi Cioè proprio l'audio era al massimo Non si sentiva la mia voce tranne all'inizio Però faccio a cagare il video Tranne il secondo match Cioè la seconda partita del secondo round Ho fatto un sacco di kill Ho difeso bene le bandiere L'ho preso Perciò è stato veramente buono Siamo partiti Cioè siamo entrati in una partita già iniziata Infatti mi sembra che siamo nel secondo match Di questa partita Non penso che possiamo fare un sacco Cioè non possiamo raggiungere i primi posti Non ho proprio culo culo Cioè mi devo abituare ragazzi Perché da questo gioco non ci gioco da un sacco Non so quanti anni Ho fatto assist forse Non lo so Cioè sono morto perché mi hanno accecato Cioè mi hanno fatto Mi hanno stordito Però davanti a me cazzo Stavo dicendo ragazzi Che non sono abituato Perché non ci gioco da Da 4 anni 3 anni Non mi ricordo l'ultima volta Quando ci ho giocato E quando è uscito Black Ops Cioè minimo 2 anni sicuri Che non ci gioco Cioè non ho l'abitudine Di giocare Proprio non sono Fortissimo per ora Ho fatto Ah l'assist Perché l'avevo beccato Per fortuna Ragazzi Il gioco di Black Ops Io lo comprerò forse a Natale Perché prima per noto FIFA È un gioco che Black Ops 2 Mi è piaciuto un sacco No 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 cazzo Dove sei? No cazzo Mi è spuntato da dietro Perché non Non so benissimo la mappa Non so se si può fare il giro Tranne se non era un altro Peccato cazzo Mi hanno finito Quelle munizioni A questa lola Ho fatto la prima kill Comunque Come stavo dicendo Mi hanno subito ammazzato Cazzo Mi devo prendere proprio L'abitudine La mano Che Black Ops 2 Mi era piaciuto Sia gioco la storia Offline Che online Veramente Bellissimo Io mentre parlo E commento sul video Mi ammazzo Non sono concentrato Perciò Dico subito Queste cose Andiamo a fare qualche kill Che prima Ci erano andati vicini Come ho detto Gli ultimi video Gli ultimi Black Ops Call of Duty Non erano Bellissimi Advance Ghost Infatti Black Ops 2 Era l'ultimo Gioco Buono Che era uscito E uscito Prima di quei due Perciò Black Ops 3 Lo prenderò sicuramente È un gioco Fantastico Partiamo subito Ora con La vera partita Anche se è incominciata Che è il secondo round Se non mi sbaglio Devo prenderci Come ho detto prima L'abitudine Non insultate Non dite Sono scarso Cos'è il genere Perché Prima ero forte Cazzo 400 Non so quanti kill Ho fatto 2 Mi sembra 2 Mamma mia Mi hanno ucciso Perché poi erano in tanti Erano 3 4 Però 2 kill L'ho fatto Mi sembra Come si vede Ora siamo entrati Nel secondo match Di questa prima partita Infatti ho fatto 4 uccisioni 3 Catturate Sono morto 10 volte Vabbè Ragazzi 1125 4 uccisioni Secondo match Siamo entrati Nel secondo round Della prima partita Perciò Partiamo subito Con la seconda partita E vediamo cosa Ci riserva E saliamo No ancora a livello 3 No Penso che questo match È stato molto Buono Perché da un sacco Non ci giocavo Perciò Ho fatto qualche kill E qualche difesa E qualche bandiera presa Perciò È stato veramente ottimo Per me Dopo un sacco di anni Che non ci giocavo Allora vediamo A un tag Combine Non lo so Io non ancora Vorrei Vorrei Vedere altre Map Perché solo Untied Ho giocato Altre Altre mappe Quelle di Black Ops 2 Erano fantastico Vediamo se Anche questo Ce ne sono Delle belle È un gioco Veramente Grafica assurda Server buoni Ce devo dire Buonissimi Ed è una beta Pensate Il gioco Gioco completo Proprio I server Andranno benissimo Proprio Non c'è una pecca Poi il salto Il salto Come vedete ragazzi Non è troppo Eccessivo Come a The Vance Quelli erano troppo Eccessivi Saltavi troppo Con questi Li hanno un po' Bastardo Vieni qua E non l'ho visto Vediamo un po' La mappa Però sto andando Per ora Sempre nello stesso lato Bastardo Vieni qua No Dov'è Dietro Cazzo Non ci ho capito Più nulla L'avevo seguito Per un attimo Pensavo che era Andato dentro Invece è rimasto Sempre là dietro Quei bidoni Cazzo Ti assomigliano Quei bidoni Di merda Dai Andiamo Avanti Vediamo Qua non ci sono andato mai Vediamo Per ora Questa mappa Non mi sta piacendo Molto Però Da sopra Dove siete Distraziati Venite qua sotto Eccolo qua Uno Che cazzo Era spider Me l'ho visto volare Su Vediamo Prendiamo Muori Cazzo Si Guarda dove è arrivato Cazzo No Mi hanno ucciso Stavo prendendo la bandiera Però La prima kill Di questo Match L'ho fatta Dove Era in aria L'ho ucciso E mi è arrivato Vicino Potevo catturare la bandiera Però Vabbè La stiamo catturando ora Dai 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 Fammi la prendere pure a me Ok Passiamo da qua Dove siete Stranzi Passano sempre Da questo lato E questo Passiamo Passiamo da qua Vediamo Là infatti Penso ci sia qualcuno Che starà prendendo la bandiera Infatti uno Il mio compagno Camperato là Cazzo Uccidilo Sì Ucciso Buona Buona kill Dai prendiamo questa bandiera Prendila 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 Una canina Di black ops 2 Perciò Black ops 3 Anche se faceva cagare Me lo comprava lo stesso Muori Eccolo A lui forse Gli ha dato l'assist Perché E' impossibile Ammazzarlo in due colpi Così Velocemente Muori Cazzo Non so se Con R La R3 Si può fare A coltellare Non mi ricordo Se ho il coltello Poi Come seconda arma Non No Non mi sembra No Ok Vediamo Passiamo da qua Andiamo a fare Un pisolino Qua nel letto Muori Dove cazzo sei No Si Ucciso Prendiamolo 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 Sarà difficile Non mi passate Da dietro Ok Io passo sempre Da Oddio No No Cioè Io non ci ho capito Più niente Sparavo A random Cioè Guardate Io sparavo A random Poi mi hanno ucciso Ovviamente Dopo che mi avevano Stordito Dove non ci vedevo Niente Infatti Sparavo a random Passiamo sempre da qua Bastardi Dove siete? Siete qua? Siete là? Io voglio andare qua Non mi convince Infatti Bastardo muori Prendiamo la mappa Ok Io do questo lato Ok Presa Buonissimo Ok Ok Muori Bene Bene Muori 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 No Per ora Ce n'è un altro Buonissimo Quante uccisioni sto facendo Dai Non sono proprio un top player Ci sono alcuni tipo Sono fortissimi Mi fanno Ah sei scarso Però Io non da un sacco di tempo Ci gioco Mamma mia Altri due Ce n'erano Dai Che ci sto prendendo la mano Non so quante volte Sto dicendo abitudine Prendendo La mano Però Dai Mi hanno ucciso Vabbè Freestyler Allora Bastardi Dove il tempo Non so dove Neanche il tempo Muori Sì sì Morto Morto Livello 4 Ho sbloccato un'altra arma Buonissimo Ragazzi Stavo suonando il cellulare Perci ho dovuto prendere Ho dovuto stoppare Salvare la clip Mettene un'altra E che palle Dai Abbiamo vinto Sì Per 41 punti Perciò ragazzi Abbiamo vinto Questo secondo round Del Secondo match Non mi ricordo Quante partite ho fatto Però mi sto dimenticando tutto E Proprio abbiamo fatto Veramente Veramente Una bella partita Ah sì Abbiamo Siamo entrati nella prima partita Nel secondo round E questa abbiamo fatto Tutta E l'abbiamo vinta Ragazzi abbiamo fatto Veramente Ho fatto veramente Delle belle partite Ho fatto un sacco di uccisioni Però Non ho visto Ora vedrò Quante Uccisioni Ho fatto 8 uccisioni 7 Catturate 3 difese Per me E' buonissimo Per ora Da un sacco Che non ci giocavo Anche se L'ultimo però Gli altri Da quanto Che si sdrogano A questo gioco Perché io non ho comprato Ghost Advanza Se l'ho comprato Advanza Un mese Se ci ho giocato E ci ho giocato Su playtrap L'ho venduto Sono a livello 4 Mi sembra Sì 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 A livello No 3 Mi sono sbagliato A livello 3 Esco Dalla lobby Sono a livello 3 Ragazzi Spero che vi sia piaciuto Il video Se volete altri video Ora tanto Gli registro Ne metterò Subito Poi faccio anche La demo di PES Registro Lo vedrete La prossima volta Vediamo Poi se volete Vlog Dopo le partite E il campionato Tipo quella Che c'è stato Perché sto registrando Lunedì Ieri Ci sono state Le partite Ragazzi Ci sono state Queste Partite Fantastiche E assurde Udinese batte la Ju E l'Inter Vince il 93 Il Milan Perde 2-0 Con la Fiorentina Detto questo Se volete anche Vlog Dopo le partite Di campionato Me lo dite Se voglio Tipo che commento Io le partite Dopo quello che è successo Tipo Chi ha segnato Se qualcuno Se l'è perso Cose via Cose Del genere Lasciate sempre Un bel pollicione La beta Porterò altri Video Commentate anche Se sarà ancora disponibile Dopo Farò questo video Dopo Se scrivete nei commenti Tipo Se raggiungi Un tot Di uccisioni Un tot Cioè Di morti Così del genere Devi tipo Mangiare a fine Video Qualche cosa Non troppo schifosa Però del genere O se volete Video Così Del genere Commentate E scrivete Voi Le sfide Detto questo Lasciate un bel like Commentate Iscrivetevi Se siete già fatto Spero vi piace Questo video Questa beta Fantastica Black Ops 3 Ve lo consiglio Il gioco Tutto Ha pochissime Pochissime Pecche Che forse io Non li vedo Perché ci sto Gioando poco Però Il gioco è veramente Completo In senso che Ci sono pochissime Pecche Poche cose Da ancora Migliorare Il gioco Veramente Bello Graffi Assur E tutto E tutto Il resto Come sempre Vi lascio Come la terza volta Lo dico Lasciate un bel Policione Per questa beta E questo video Dopo 5 giorni Di assenza Detto questo Bella a tutti Ragazzi Di assenza Di assenza Di assenza Di assenza